Salve a tutti! Per la sezione Recuperi elettronici oggi andremo a vedere cosa è possibile recuperare da un vecchio televisore a tubo catodico. I vecchi televisori sono davvero molto ricchi di componenti elettronici di cui noi ne abbiamo disperato bisogno e molte volte sono componenti anche di un certo valore. In generale da questi modelli così piccoli è già possibile tirar fuori un'ingente quantità di roba ma dai modelli più grossi, quelli più massicci, c'è davvero tantissimo da poter recuperare quindi sono una vera e propria miniera d'oro quando riusciamo a trovare questo genere di dispositivi. Io adesso inizierò lo smontaggio e pian piano vi farò vedere le parti più salienti. Ho aperto il televisore ed ecco cosa troviamo al suo interno una mega scheda di componenti elettronici che sarebbe la scheda madre dei vecchi televisori più una schedina che poi si connette al cannone del tubo catodico con altri componenti sopra. Poi ci sta questo che sarebbe la bobina di deviazione in pratica fa curvare gli elettroni che poi arrivano sullo schermo e va ad illuminare ogni pixel dei vecchi televisori. In più al lato c'è anche una piccola cassa acustica e questo è diciamo il grosso che c'è all'interno. Ovviamente più sarà grande il televisore è più la scheda sarà grande quindi di conseguenza più alto è il valore. Ok adesso la vado a smondare del tutto e vi faccio una descrizione delle singole parti. Ed ecco qui quello che abbiamo recuperato quindi partendo dagli elementi esterni dalla scheda abbiamo la presa di alimentazione quindi questo è già un primo recupero poi vabbè la cassa come abbiamo già detto quindi questo è un altro elemento esterno mentre sulla scheda allora la scheda si divide in varie parti partendo dall'ingresso abbiamo che il primo stadio che incontriamo è lo stadio di alimentazione ovvero per distinguerlo in pratica su ogni scheda di questo tipo vedete questa linea bianca segrettata in questo modo poi continua qui questa indica proprio lo stadio di alimentazione e questa linea indica che tutto quello che sta dopo questa linea è isolato dalla rete infatti in questo punto se vedete ci sta un pc 113 che dovrebbe essere un foto accoppiatore mi sembra ma sicuramente lo è perché è proprio a cavallo della barriera questa dovrebbe essere una y2 infatti anche lei è a cavallo della barriera niente questo stadio di alimentazione può essere separato tagliando tutta la scheda e potrebbe anche funzionare e sarebbe un ottimo alimentatore perché questo è da circa 150 watt quindi dovrebbe dovrebbe tornare utile anche perché ci sono non è un unica alimentazione di uscita ma ne ha diverse poi ovviamente bisogna un attimino studiarsi meglio la scheda ma in genere hanno diverse tensioni di uscita in generale per capire di che range di potenza e lo stadio di alimentazione basta andare a leggere di quanti micro farad è il condensatore di ingresso in questo caso è 100 micro farad ok forse l'ho un po sovrastimato di solito la regola è che ogni watt corrisponde a un micro farad quindi minimo questo alimentatore è da 100 watt ora dopo ci stanno tutte le altre parti questa è la parte di demodulazione del segnale RF quindi poi qua ci sarà da qualche parte l'analisi dell'audio del video qui ci stanno tutti gli input questi sono i pulsantini di input quindi qua ci sarà poi controllo dei canali e tutto in questa parte qui invece ci sta alla parte di modulazione della bobina e quindi questa parte tutta di transistor RF e questa poi è la pistola si chiama trasformatore di riga alimenta il cannone di elettroni quindi i componenti di maggior valore sulla scheda si vedono a occhio ovvero questo condensatore ma in generale tutti gli altri condensatori elettrolitici sono di grosso valore poi abbiamo bobine di modo comune per i filtri a fase di filtraggio questo tipo di condensatori che sono sempre in pori propilene di tipo mkp sono condensatori ad alta corrente come questo 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 e sono tutti in genere questo tipo rosso e da 600 volt quindi stiamo parlando di condensatori di un certo valore poi abbiamo i trasformatori quindi ci sono nuclei inferrite anche questo qui la pistola in genere questo è il nucleo inferrite del io lo chiamo pistola ma tecnicamente si chiama trasformatore di riga per alta tensione e tutta questa assemblata ha un valore molto alto di solito costa 15 euro comprarne una nuova quindi anche a livello di ferriti qui c'è molta roba ci sono dissipatori alette di dissipazione questo è un transistor ad alta tensione e 8 ampere 400 volt di solito sono sempre di quel range lì resistenze in cemento per alti wattaggi questa è per una 6 watt insomma c'è tantissima roba da poter riutilizzare appunto come vi dicevo questa è proprio una miniera d'oro per un laboratorio di elettronica qui c'è tutto condensatori ad altissima tensione questi blu sono da due kilowatt qui c'è tutto si può si ci può rifare proprio il magazzino con con questa scheda qui ovviamente la vera difficoltà non è tanto quella di riconoscere tutto il valore che c'è qui sopra ma poi il vero lavoro è andarli a smontare infatti su una scheda così grande la vera difficoltà è quella di riuscire a estrarre questi componenti e tendenzialmente si fa con una pistola d'aria calda e poi ad uno ad uno si vanno a estrarre quindi questo è il vero lavoro su questa scheda per quanto riguarda il valore ripeto è molto molto alto l'elemento più più di valore tutta la scheda quindi è il trasformatore di riga solo questo ripeto costa 15 euro con questo poi ci faremo anche qualcosa di divertente l'uscita di questo qui sui 30 mila volt quindi di sicuro qualcosa di divertente esce molto bene quindi questo è in generale quello che si riesce a recuperare da un vecchio televisore a tubo catodico ovviamente ripeto più è grande e più componenti ci saranno sopra molto bene per questo video è tutto alla prossima